138 precari dell'ASL di Lecce, tra personale medico, tecnico professionale e infermieristico dirigenziale, firmano un contratto a tempo indeterminato. Già nella mattinata di ieri in direzione generale avevano firmato in 60 il nuovo contratto di stabilizzazione. Agli altri toccherà tra oggi e domani. Soddisfatto ed entusiasta, il direttore generale Rollo, per la direzione generale dell'ASL di Lecce, dice, è un giorno importante, per nulla liturgico burocratico. Ci ho tenuto ad accogliere di persona tutti gli operatori stabilizzati nel loro primo giorno di lavoro a tempo indeterminato, perché, con mia grande gioia, entra un effettivo a far parte della nostra azienda sanitaria. Poi prosegue, arriva in una fase particolare per due ragioni, perché a livello internazionale si è compreso che i servizi alle persone sono il fulcro del nostro futuro, per cui transitiamo dalla stagione dei tagli a quella degli investimenti in sanità pubblica. E poi perché, nella fase post-Covid, la nostra grande sfida è quella dell'organizzazione e della qualità delle cure. Infine, il Digirollo conclude, da oggi donne e uomini, alcuni con 10 anni di precariato alle spalle che con competenza, sacrifici e professionalità hanno portato avanti per anni i settori vitali della nostra azienda, avranno un contratto a tempo indeterminato. È un bel giorno, quindi, per loro e per noi, perché riconosciamo diritti, tutele e dignità. Auguro loro, dice Rollo, buon lavoro e una carriera di impegno e successi.